Un opuscolo contro le truffe dalla legione Carabinieri ci si attiva a sostegno delle persone più fragili oggetto di mire dei malviventi. Negli ultimi tempi si sono moltiplicati casi di truffe agli anziani e la compagnia Carabinieri di Sala Consilina al comando del capitano Paolo Cristinziano ha attuato una vasta campagna informativa per aiutare le vittime a riconoscere i malviventi e poter così evitare che il raggiro possa concludersi. In queste ore è partita una nuova e capillare azione informativa attraverso la distribuzione ad opera del comando provinciale di un opuscolo su cui sono riportati in maniera semplice e facilmente leggibile suggerimenti e consigli per arginare i tentativi di truffa. Opuscoli che in queste ore sono in distribuzione su tutto il territorio di competenza della compagnia salese ed in particolare nei centri e nei punti maggiormente frequentati dalle possibili vittime di truffatori quali ad esempio parrocchie oppure centri di aggregazione sociale. Sul Deppiant viene innanzitutto spiegato come vengano attuate le truffe e come si presentano alla loro vittima i malviventi spesso dichiarando di essere funzionari delle poste oppure dell'Inps o incaricati di società elettriche o gas. In ogni caso si presentano sempre ben vestiti ma non sempre l'abito fa il monaco non fidatevi dell'apparenza scrivono le forze dell'ordine. La brochure riporta dieci regole da seguire per evitare raggiri. Innanzitutto non fare entrare sconosciuti in casa soprattutto se la visita arriva in orari inusuali e se si è solo in casa. Non mandare i bimbi ad aprire la porta e comunque verificare sempre prima di aprire la porta l'identità della persona che ha suonato. Laddove vi siano dubbi verificare utilizzando il telefono cellulare personale, l'identità dell'ospite e contattando gli uffici di zona a cui dice di appartenere tenendo a portata di mano i numeri di telefono di riferimento come Enel, Telecom o Società del Gas. Non usare il telefono fisso che potrebbe essere controllato da un complice. In caso di dubbi contattare il 112. In caso di consegne di pacchi o lettere fate lasciare il tutto davanti all'uscio e se c'è da firmare farlo con la catenella della porta attaccata. I carabinieri invitano alla massima cautela nella consegna di denaro sconosciuti così come nell'acquisto di merce venduta porta a porta. Laddove lo sconosciuto riesca ad introdursi in casa va invitato ad uscire dirigendovi con passo deciso verso l'uscio. In ogni caso non bisogna mai contattare i numeri di telefono forniti dall'ospite. In caso di dubbi contattare sempre il 112. Le forze dell'ordine inoltre invitano sempre a diffidare di acquisti convenienti. Potrebbe trattarsi di merce rubata a cui si aggiungono altri utili consigli per evitare di incappare in truffe.